Nove giorni di grandi eventi e con grandi nomi per la festa della rivoluzione d'annunzio Torna Pescara, l'evento organizzato dalla presidenza del Consiglio regionale e dall'amministrazione comunale del capoluogo adriatico per rendere omaggio all'impresa Fiumane del Vate. La manifestazione è stata presentata oggi all'Aurum alla presenza del presidente della regione Marsiglio, del presidente del Consiglio regionale Sospiri e del sindaco Carlo Masci. Torna alla città dove è nato, dal Vittoriale dove lo celebrano con tutti gli onori e in ogni occasione diventando anche un grande momento di attrazione turistica. Torna a Pescara, cresciuta dove Gabriele D'Annunzio è nato, torna per l'anniversario di quella che fu chiamata l'impresa di Fiumane, cioè cent'anni dopo, che è un momento per rivedere ciò che fu quel periodo storico che è stato tra la prima e la seconda guerra mondiale in un'ottica di pacificazione del Medio Adriatico, appunto a cento anni. Torna per farsi riscoprire agli abruzzesi, ai pescaresi e a tutti gli italiani come il più grande innovatore dei costumi, dell'arte, della poesia e del teatro che in quel periodo storico il mondo ha avuto, non a caso a Fiume vi erano contemporaneamente Toscanini e Marconi, cioè il più grande scienziato del momento e il più grande direttore d'orchestra del momento. Torna per un grande, a mio avviso, un grande momento culturale in cui c'è di tutto e di più, dalla musica al teatro, dal gusto al fumetto, dalla satira alla riflessione politica, alle mostre documentali e alle mostre sulle passioni di Fiume. Torna è per restarci, per preparare i cento anni della Costituzione del Carnaro e come avviene per tutti i figli illustri di questa regione, da Benedetto Croce a Flaiano, è giusto che anche Gabriele D'Annunzio, che il figlio più illustre della nostra regione possa essere ricordato, analizzato, studiato ed evidenziato nel miglior modo possibile. Non è mancata qualche polemica con la Commissione di Vigilanza del Comune di Pescara che ha chiesto l'UMI sulle spese sostenute dall'ente per la manifestazione. L'opposizione fa il suo lavoro, in questo caso credo che non lo faccia bene perché stiamo parlando di D'Annunzio, del personaggio più importante che Pescara mai ha avuto. Le spese sono tutte rendicontate per eventi importanti, il Comune di Pescara spende i suoi soldi per qualche evento ma ha iniziative per circa 250 mila euro, di cui buona parte è messi dalla regione. Quindi l'investimento per Pescara è in minimo, tant'è che doverosamente ringrazio la regione, il Presidente del Consiglio regionale, il Governatore per questa importante iniziativa che stiamo conducendo insieme e che vede comunque Pescara protagonista.